eccoci qui come state amiche e amici ben ritrovati su milanello la casa dei milanisti su youtube vi invito come sempre a commentare numerosi a lasciare un bel like qui sotto da queste parti è ovviamente gratuito e iscrivervi in questa zona se lo avete ancora fatto siamo quasi 91.000 tifosi rossoneri che sperano in una chiusura ovviamente con una vittoria con il verona di questa stagione di luci e ombre e sperano di vivere un'estate brillante da protagonisti sul mercato perché abbiamo bisogno di rinforzare questa squadra mister pioli mi ha molto sorpreso domenica sera quando dopo la partita detto per competere sui due livelli bisogna rinforzare la squadra servono giocatori forti giocatori di qualità pioli per la prima volta si toglie di dosso l'abito del tecnico aziendalista e forza sul tema mercato non tanto nei confronti della società anzi credo che quella società fosse d'accordo rispetto a questa scelta comunicativa quanto nei confronti della proprietà che deve mettere a disposizione della società le risorse per rinforzare questa squadra dovremmo fare diverse cose e ovviamente è meglio fare qualcosa però di importante a livello di singolo mi spiego meglio piuttosto che sette giocatori buoni è meglio averne magari due o tre forti davvero ecco questo è un aspetto importante detto che a livello numerico comunque serviranno sì sette o otto quindi sarà importante magari in operazioni per riserve di prestiti o a parametro zero non sbagliare appunto come è successo invece un anno fa eccezione fatta per ciao il dibattito su decetelare è più che mai acceso adesso andiamo su notizie molto importanti di decetelare si parla di futuro ovviamente con notizie clamorose io la scorsa settimana ho aperto un sondaggio a cui hanno risposto quasi 9.000 tifosi della nostra community quindi quasi 1 su 10 e vi chiedevo che cosa fare con decetelare il 44 per cento di voi quindi quasi 1 su 2 ha risposto va confermato il 31 per cento ha risposto prestito il 25 per cento cessione quindi 1 su 3 dice mandiamolo via ma teniamo il controllo 1 su 4 dice cediamolo sinceramente mi aspettavo una percentuale minore rispetto alla conferma una percentuale superiore rispetto alla cessione che cosa succede decetelare ha fatto una stagione comunque in cui ha giocato tanto 31 partite è vero non intere ma 31 volte in campionato è sceso in campo ha giocato poi anche 25 minuti supercoppa 235 minuti di champions 120 di coppa italia una stagione che lo vede protagonista si fa per dire con 39 gare in totale 1462 minuti quindi malcontate 16 partite intere che ha giocato in cui ha fatto soltanto un assist quello col bologna quando era partito bene prima di scendere senza più dare segnali di incoraggiamento di speranza negli ultimi tempi sapete che pioli un paio di settimane fa ha detto vediamo se può andare in prestito oppure no dobbiamo valutare o incontrare la società ebbene calabria nei giorni scorsi ha detto se hanno preso qualcosa ci hanno visto a qualità speriamo nell'estate speriamo nell'estate è una speranza che tutti hanno secondo me però speranza con poche fondamenta di di certezza e tante invece di rischio perché non perché le auto nali dall'estate all'alto hanno cambiato lo stesso sarà per decetelare perché le auto nali hanno un carattere diverso rispetto a decetelare il cui limite principale per quanto mi riguarda non è di di tattica di tecnica di qualità ma è caratteriale e il carattere è quello difficilmente lo cambi è vero che poi con un anno in più sulle spalle hai le difficoltà maturi cresciti ambienti però ho visto difficoltà estreme io una cosa dicevo nei giorni scorsi quando hai un giocatore che floppa al primo anno un dirigente poi può prendere due strade non presto cessione conferma due strade basate su o buon senso o su orgoglio magari è giusta quella dell'orgoglio sulla carta è giusta quella del buon senso mi spiego meglio se ti arriva un'offerta secondo me deve prevalere il buon senso capire che forse se anche tu hai poche speranze è meglio accettare l'offerta e ammettere l'errore non deve prevalere l'orgoglio che ti porta ad esempio magari a rifiutare un'offerta importante perché non vuoi ammettere all'universo che la tua operazione onerosa 35 milioni di euro è stata sbagliata e insisti anche se sotto sotto ci credi poco prima di tutto viene bene il milan e per quanto vi riguarda deve prevalere il buon senso ecco la notizia la prima notizia è che il milan chiude l'ipotesi di prestito il milan ha valutato sta valutando e una cosa non la vuole fare cioè cedere il giocatore in prestito cosa che se ricorderete anche per me era piuttosto controproducente soprattutto quando il problema è caratteriale perché se tu c'è di dichiarare in prestito che ne so alla fiorentina lui va in un'altra città con altri compagni con altre abitudini e se fa bene lì si ambienta lì torna con un po' più di consapevolezza ma si deve di nuovo ambientare in una piazza più esigente con una maglia più pesante con compagni diversi per questo il milan il prestito difficilmente lo porterà avanti come ipotesi di lavoro ora siamo di fronte a un notizia clamorosa e che si sono fatti avanti si stanno facendo avanti di potenziali acquirenti per decetelare c'è qualcuno non chiedetemi come perché che in europa vuole decetelare purtroppo il principale stimatore che era il leeds che lo voleva già la scorsa estate poi abbiamo preso noi ed era tornato alla carica a gennaio è retrocesso in championship quindi il leeds lo dobbiamo escludere però non chiedetemi come perché ma c'è comunque mercato attorno a decetelare quindi ci sono acquirenti che sono fatti avanti con il suo entourage per capire se c'è questa possibilità di andare a prelevare il giocatore sorprende perché la stagione è molto negativa dall'altra parte forse c'è considerazione per quello che ha fatto al bruges per quello che ha fatto vedere anche con il belgio e c'è la consapevolezza che evidentemente al mina non si è ambientato per quanto mi riguarda se dagli attestati di stima dai sondaggi con tom de mull che il suo agente si approfondisce e si riesce a ricavare un'offerta io dico una cosa non pensiamoci due volte mio parere è non ho la verità in tasca come non ce l'ha nessuno non sappiamo il futuro quindi c'è margine di rischio da una parte e dall'altra mio parere non lasciamocela scappare io dico a malincuore perché a me piaceva molto decetelare però purtroppo ho visto un calo incredibile e non vedo più grandi segnali di ottimismo anche da parte del milan nei suoi confronti per questo se arriva un'offerta secondo me non dobbiamo lasciarcela scappare un'offerta che per non fare minus valenza deve essere di 28 milioni prezzo per cui sarà il suo valore a bilancio in estate preso a 35.5 sarà a 28 se arriva a 28 ragazzi va portato con il rischio che domani ci mangiamo le mani? sì però noi abbiamo necessità di avere certezze di ripartire da delle certezze ed è che telare oggi non è una certezza purtroppo è una incredibile incertezza oppure certezza nel senso negativo purtroppo perché va bene tutto ma in 1500 minuti non sei stato soltanto sfortunato a un certo punto dovevi metterci qualcosa in più tu e quel qualcosa non lo ha messo per un carattere un indole forse un po' particolare è molto introverso cosa che conosceva anche il milan prima di puntarci e forse servivano valutazioni diverse detto questo la notizia è importante c'è mercato attorno a dei che telare non deve prevalere secondo me l'orgoglio di insistere ma deve prevalere il buon senso di passare alla cassa di incassare e reinvestire perché se tu incassi 28 da dei che telare e credo che questi soldi possano arrivare soltanto dalla Premier League allora allora hai in mano un bel tesoretto il preferito in quella posizione ed era il progetto di Pioli rendere dei che telare un Milinkovic Savic è il servo della Lazio che come sapete ha un anno solo di contratto andrà via in estate lo tito si accontenterà probabilmente di 30 milioni di euro salvo club che possano offrire di più in Italia non c'è molto mercato all'estero nemmeno quindi lo tito potrebbe davvero svenderlo lui prende 3,2 diciamo che si potrebbe arrivare a 5 che sono 10 all'anno per 4 anni sono 40 più 30 di cartellino sono 70 milioni per 4 anni per un giocatore che arriverebbe a quel punto a 32 anni per un giocatore che ti cambia la vita ecco non voglio spedire dei che telare a tutti i costi mi dispiace anche però se c'è una possibilità di arrivare a Milinkovic Savic ed è questa l'estate altrimenti te lo scordi questa può passare soltanto alla cessione dei che telare se tu incassi 28 da dei che telare e non chiedetemi perché e come chi se è pazzo oppure no ma dei che telare a mercato ha potenziali acquirenti se tu incassi 28 il cartellino lo hai pagato a quel punto devi fare lo sforzo sull'ingaggio per un giocatore che però ti cambia la vita è chiaro che rispetto all'ingaggio di dei che telare è più importante anche perché non ha il decreto crescita però arrivi a una certezza incredibile ricorderete Maldini disse tipo Osidelmina dico di pazientare un colpo a Lavalovic si può fare dopo tre anni che va in Champions ecco siamo al terzo anno consecutivo di Champions un colpo a Lavalovic non ce lo possiamo ancora permettere ma un colpo alla Milinkovic Savic sì se incassiamo da dei che telare anche perché gli altri soldi ti servono per altre operazioni spero a mano in cuore perché puntavo sul giocatore che il Milan possa cercare di approfondire l'interesse di questi acquirenti la prossima settimana ci sarà un incontro con Tom De Mulch e l'agente di dei che telare che esprimerà anche il suo punto di vista dei che telare che non vuole rimanere a tutti i costi dei che telare che si sente un po' chiuso nel Milan perché non riesce a inserirsi adeguatamente e tutto può convergere verso una separazione che deve essere vista come un'opportunità di spesa importante ci deve essere la voce player trading dai vari rebici o righe ballature eccetera ma secondo me un punto cruciale uno snodo cruciale della nostra estate del nostro mercato passa da sciar de che telare ripeto in 1500 minuti sono tanti eh in 1500 minuti sono 60 sono 25 ore di gioco in 25 ore immaginate 25 ore di partitella è qualcosa di più anche per sbaglio devi darlo invece purtroppo non lo ha dato per questo ribadisco cerchiamo di fiutare l'occasione se c'è l'offerta prendiamola e poi spendiamo quei soldi meglio perché oggi li abbiamo spesi male e la certezza che in estate si svolti che lui possa svoltare non ce la dà nessuno ci sono degli esempi di giocatori che hanno svoltato altri che invece non hanno svoltato secondo me non dobbiamo correre il rischio in questa situazione dobbiamo ridurre il margine di rischio per la prossima stagione e lui è un'incognita clamorosa clamorosa anche perché la cifra spese è stata elevata Milinkovic Savic o lo prendi quest'estate o non lo prendi più per questo spero possa prevalere il buonsenso e che si faccia un colpo straordinario di nome Milinkovic Savic il preferito mio ma non conta nulla il preferito di Pioli qualcosa dovrebbe contare ditemi che cosa ne pensate evidentemente lui è ancora a Pil ecco comunque adesso non è che sarà sempre un brocco a vita cambiando contesto magari torna a essere quel tipo di giocatore è un club inglese di media bassa classifica perché no potrebbe puntare su di lui non credo tanto alla Francia non credo neanche tanto alla Spagna il mercato che può spendere quei soldi per decetelare è la Premier a meno che non vuoi fare meno svalenza oppure lo dai in prestito con obbligo di riscatto e l'incasso lo prendi poi l'anno successivo quando sarà bilancio a 20-21 però la notizia è no prestito o conferma o partenza a titolo definitivo io tra le due guarderei questa strada perché permetterebbe di realizzare un sogno incredibile che si chiama Milinkovic Savic obiezioni dall'altra parte scrivetele qui sotto leggerò i vostri commenti sempre con civiltà e rispetto scatenatevi lasciate un bel like iscrivetevi qui attivate la campanella se avete il Milano il cuore se per voi il Milano è una cosa importante tutti uniti in quest'estate speriamo rossonera soprattutto la prossima stagione dovrà essere rossonera io sogno a occhi aperti la seconda stella già la volevo quest'anno un abbraccio iscrivetevi se siete dei cuori rossoneri grazie